Un giorno stavo sul balcone di casa mia, stavo palleggiando col pallone, mi vedi le gambe un po' grosse, e dissi mamma mia come sorrende queste gambe, vorrei dimagrire un po'. Aveva solo 16 anni Ritalosco quando precipitò nel tunnel dell'anoressia. Si è spenta oggi, a 52 anni a Solofra, il simbolo della lotta ai disturbi alimentari, a quel male oscuro che ti consuma fuori e dentro. Una vita la sua, spesa sempre al limite tra la diffidenza e l'ostilità delle persone, come raccontava in questa intervista rilasciata ad Otto Channel nel 2016, presentando il suo libro Non guardatemi così. Vorrei, ecco, sa ancora la vita buona, che vorrei essere più normale, non riesco proprio a svegliarmi. Ritalosco si era ammalata quando dell'anoressia nulla si sapeva, poi i lunghi anni di umiliazioni e sofferenze raccontati nel libro. Le persone non interagiscono, le persone ti evitano, ti scansano, hanno paura. L'anoressia è una malattia purtroppo, è una brutta malattia. Rita dopo il suo lungo calvario si è spenta, la sua battaglia contro il male oscuro resterà ad esempio per i giovani. Chi vuole stare sempre a dieta, state molto attenti, perché da un momento all'altro cadi e non ti rendi conto. E invece chi lo è, ragazze, anoressia, uscite, uscite lo scoperto, perché siete stupende come siete.